e sta cercando in qualche maniera di portare a termine una gara interessante per lui, eccolo qua Manuel Dovecchi con la famosa moto numero 28, questa livrea tricolore che ricorda evidentemente i colori dell'Italia, la bandiera dell'Italia di Dovecchi che tiene come stiamo cercando di valutare di vedere alle spalle diversi piloti, in questo caso sta cercando di continuare di proseguire il suo percorso. Dovecchi in questo caso si può fare la scilla di un treno, passando sempre la testa, la stessa, 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 la stessa la stessa, 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.